Allora, oggi io mi benderò così e andremo a pescare una palette random ad ogni mobiletto. Iniziamo subito. Eccolo qui, apro. Sono bendata, eh. Andiamo qui. Apro, la mano è su questa qui, prendiamo questa, che è quella di Revolution, molto bella. Iniziamo subito. Allora, riprendiamo, ho fatto la mia base, qui c'ho la cipria, e riprendiamo il video usando la palette che ci è uscita, che ha queste fantastiche colorazioni. Allora, guardate un po', guardate questo come cambia. Bellissimo. Comunque, prendiamo i pennelli, iniziamo nella piega, con questo qui scuro. Ah, comunque questa si chiama Revolution Pro Color Focus Shadow Palette Rock and the Royal. Non so se sono ancora disponibili, comunque, è questa. Allora, andiamo a sfumare. Avendo l'occhio abbastanza incappucciato, devo per forza tirarmelo, altrimenti, quando lo apro, non so il pasticcio che ho fatto. Più o meno, ora, con questa matita di Benefit, Highbrow Do Pencil. Da una parte è marroncina, dall'altra è illuminante. Con la parte illuminante la mettiamo qui. Così, con un pennellino più fino. Sfumiamo bene. Poi, andiamo ad applicare questo colorino duochrome che vi ho fatto vedere prima, che non mi ha usato, tra l'altro, ma è spettacolare. Molto bello. Non so se voi rendete tutti i riflessi bronzo, oro e verdino. Poi, nell'angolo esterno dell'occhio, intensifichiamo con un mix di questo violetto e questo marroncino qui. Non so se vuoi, e non so se vuoi. Non so se vuoi, non so se vuoi. andiamo a ripulire il tutto con un po' di correttore con questo fantastico blu che vi ho sbucciato prima bagno la mia base che è secchissima dare un po' di vita, un po' di terra mettiamo un po' di luce questo è un bellettino qui più chiaro ok, mascara, primer ok 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 la scala questo è il make up terminato spero vi piaccia e al prossimo video